Pronti? Uno, due, tre. Buono stavolta il segnale, ci sembra Big Ben dei Greppi il più veloce nella giravolta che prende il comando. Poi vediamo l'errore di Berlino, uno dei cavalli più attesi. Numero quattro Berlino, squalificato. Viene attaccato da Bravert-Zach-LG con Davide Angeletti, ma rimane all'esterno l'allievo di Roberto Faticoni. Quindi, secondo la corda, il numero uno di Beautiful Trio a precedere Bahama dei Greppi, mentre avanza a largo Brisey Decol. Tanto si avvicinano anche i due cavalli che erano a 40 metri, ovvero Blef dei Greppi e Brios nell'ordine che sono ormai a centro gruppo. Intanto arriviamo al 600, passati dal figlio di Explocaff in 48, sempre secondo la corda Beautiful Trio a precedere Bahama dei Greppi, mentre Roberto Vecchione con Brisey Decol sposta in terza ruota e arriva ai fianchi del Battistrada che intanto completa il giro in 1,3 e mezzo, 15 e mezzo la frazione di là. Brisey Decol a diretto contatto di Big Bang dei Greppi, poi sempre Beautiful Trio di fuori. Vediamo Brevert-Zach-LG, sempre terza la corda Bahama dei Greppi, chilometro in 1,19 e mezzo, secondo passaggio davanti alle tribune. In vantaggio sempre Massimiliano Romanelli che è ora affiancato da Roberto Vecchione con Brisey Decol. In terza e quarta pareglia sono i due penalizzati, Blef dei Greppi e Brios. Ora Antonio Greppi sposta in terza ruota, il figlio di Nesta F, e prova ad avanzare. La sua schiena è presa da Brios. Siamo a poco più di 600 metri dalla conclusione con Brisey Decol che accentua la pressione su Big Bang dei Greppi, anche perché è a sua volta pressato da Blef dei Greppi che scatta in terza ruota. Intanto Brisey Decol sembra prendere vantaggio, ma è ancora tonico Big Bang dei Greppi e reagisce, rientra parzialmente l'avversario nella veloce 14.1 della retta di là. Si è ripreso Big Bang dei Greppi, ora Brisey Decol è ancora lì all'esterno, ha esaurito un po' lo spunto anche Blef dei Greppi. Numero 7 Brisey Decol, squalificato. Lascia in vantaggio Big Bang dei Greppi che cerca la fuga da numero 1 di Beautiful Trio, ma Big Bang dei Greppi ha ormai partita vinta e viene a vincere su Beautiful Trio, mentre per il secondo Obama dei Greppi si difende dal finale di Bruffen Oil. 33 chiudere, 1.18 secola, media al chilometro per Big Bang dei Greppi. Massimiliano Romanelli alla guida, al training e anche alla proprietà di questo figlio di Exploacaf e Nubia dei Greppi che coglie la terza vittoria in carriera in percorso di testa sui 2000 metri coi nastri e viene a vincere la sesta di Bologna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.